La Virtus Francavilla darà il via alla propria stagione lunedì, due giorni dopo Ferragosto. Ad annunciarlo è stato il presidente Antonio Magri spiegando come quella del 17 agosto sarà la data del ritrovo dei calciatori presso lo stadio Giovanni Paolo II per svolgere i controlli sanitari, tamponi e test sierologici per scongiurare la presenza di Covid-19. Il numero 1 Biancazzurro poi ammette, al momento dobbiamo rispettare il protocollo in essere, siamo in attesa delle modifiche che prevedano un alleggerimento delle prescrizioni. Attualmente dovremmo effettuare i tamponi ogni 4 giorni, quindi un qualcosa di abbastanza onerosso per le casse di una società. Aspettiamo venga cambiato, conclude, ma in ogni caso lunedì partirà la nostra stagione. Via libera dunque agli allenamenti individuali, anche a chi arriva da fuori regione. Una volta noti gli esiti dei tamponi, spazio agli allenamenti di gruppo. In pratica, così come è stato dopo il lockdown imposto dal governo, tutto confermato invece per il ritiro di Chianciano Terme in Toscana dal 26 agosto fino al 4 settembre, quindi il rientro in città per riprendere con gli allenamenti già dalla seconda settimana del prossimo mese. Sul fronte mercato, la priorità del club Biancazzurro resta sempre il portiere, tanti nomi assolutamente over, sull'agenda della società. Per quanto riguarda il ritorno da svincolato di Carmine Setola, infine, dopo la mancata iscrizione in C del Siena, non si registrano passi in avanti.